Musica 21esimo turno del campionato di prima categoria Giorna I, a Comunale di Sala va in scena uno dei tanti derby cesenati in stagione. Di fronte i padroni di casa del Sala opposti a Villa Marina, sfida fra centro ed alta classifica, obiettivi diversi per due realtà consolidate del territorio. Direzione arbitrale affidata a Giuseppe Capaccio della sezione di Rimini. Con l'immagine a cura di Giacomo Alpini passiamo al racconto del match. È molto bravo l'attaccante del Sala, Milzoni, da posizione di filata e numero 9 riesce ad accentrarsi arrivando alla conclusione che si alza di un nulla sopra la porta difesa da Fabri. La replica di Villa Marina è affidata a numero 9 Lorenzini, un rigore in movimento per lui con Urbini che conquista la meritata Pagnotta con una parata straordinaria. Il Sala agisce in ripartenza ma non riesce a appungere la porta difesa da Fabri. Dopo la mezz'ora arrivano due minuti di piena trans agonistica per gli uomini di casa tra Marrone e Urbini. La prendo io, la prendi tu. Alla fine Urbini scaraventa il pallone addosso alla corrente Candoli che trova un gol degno della giallappa sbende. Un gol che spezza l'equilibrio in campo ma se il gol di Candoli è una vera doccia fredda lo divina ancora di più quello a cura di Farabegoli che serviti in corsa da Lorenzini riceve palle e scarica la sfera alle spalle di Urbini. 0-2 e chiusura di prima frazione. Nella ripresa il Sala cerca di riaprire da subito il match la punizione di quarta e un primo avvertimento. Lorenzini dall'altra parte fa il sollettico alla porta difesa da Urbini mentre il Sala si ripropone in avanti con una discesa non tramutata in rete dagli uomini di casa. Dalla bandierina alla volta di Luca Foschi numero 19 raccoglie il pallone da fuori area cerca il gol. Fabri si distende in presa ma l'estremo ospite deve arrindersi quando quarta rievocando un Lazio Juve terminato 3-4 del 1994 inventa un gol alla del Piero. O meglio il paragone forse troppo azzardato alla Ciccio Grabbi per un gol che vale la copertina di questa giornata di prima categoria. 1-2 giochi parzialmente riaperti perché dall'altra parte Lorenzini viene atterrato dentro l'area di rigore. Del penalty si è in carica lo stesso 1-9 che calcia alla Zazza, occasione sprecata. In pieno recupero l'ultimo tentativo arriva per opera del nuovo entrato Zavalloni. Da posizione defilata non riesce ad inquadrare il bersaglio con le squadre che chiudono l'ostilità sul risultato di 1-2.